Salve a tutti ragazzi, qui è Giuseppe Gamer e benvenuti in questo primissimo video di New Super Mario Bros. U, Wii U, non so nemmeno come cavolo si chiami Comunque ho deciso di proporvi questo gioco perchè sulla pagina Facebook vi ho scritto appunto potrebbe piacere, vi davvero in tanti mi avete detto appunto di sì Quindi farò questo primo gameplay, credo 10-15 minuti, poi sarete voi ovviamente nei commenti a farmi sapere se volete anche gli episodi successivi Quindi non perdiamoci in chiacchiere, iniziamo subito Piana delle Ghiande 1, Sentiero delle Ghiande, quindi iniziamo, ho qui il mio Wii U Gamepad, quindi Sentiero si l'ho capito I tasti credo più o meno siano ormai i soliti della serie, ecco, iniziamo benissimo, iniziamo davvero bene, incominciamo Ovviamente non gioco a un Super Mario da mille anni, quindi devo incominciare un po' a riprendere la mano Ho quattro vite, iniziamo molto bene, ovviamente questa era di prova, giusto per incominciare un po' così con i tasti, ecco Questa volta, vabbè, lo lascio perdere, altrimenti già so che fine faccio Ok, prendiamoci sto funghetto Andiamo un po', se scendo, non c'è niente qua giù, fa un culo ucciso E eliminato Che poi ragazzi, parliamoci chiaro, i Super Mario sono davvero eccezionali, almeno questo che finalmente ho modo di giocare Perché appunto prima, possedendo il gioco non potevo, questo è uno dei... oh cavolo, che è qua? Mamma mia, fighissimo Questo gioco è uscito, mi sembra, già da un annetto, eh, quindi non è che sia proprio un gioco recentissimo Nel frattempo sono sceso giù Però comunque, eh, ve l'ho proposto perché magari ho detto, che ne so, potrebbe piacere ai miei bros E a quanto pare potrebbe essere così Per cui mi raccomando, fatevi sentire con i like se volete i prossimi episodi Ovviamente anche se non li volete, appunto per apprezzare più o meno ciò che appunto vi sto proponendo No, mamma mia che culo ragazzi, aspetta Mamma mia, potevo morire invece no, sono sopravvissuto Qua davvero ci sono troppi nemici, ecco lo sapevo Lo sapevo, lo sapevo Ah no, aspetta, ce n'è un altro Comunque davvero non sembra per nulla male Poi rivedere Super Mario ma in HD, ecco lo sapevo, fanculo Aspetta, però credo qualcosa ci sia qua giù, lo sapevo A volte ormai Super Mario diventa, in un certo senso, prevedibile Magari se voi, appunto come dicevo, potrebbe piacervi questo gioco Potrei fare gameplay anche un po' più lunghi Perché questo qui, o meglio sto gioco, non credo sia tanto impegnativo Ovviamente un po' di casino, appunto per sincronizzare lì Audio registrato dal microfono, gioco e... che cavolo fa? La giravolta, fighissimo Come dicevo, un po' di casino da fare per... Ok, sono risalito Per sincronizzare un po' il tutto Però comunque, per me non è poi un grandissimo problema Attenzione Cos'è? Salta sto coso Ancora un'altra ghianda, va? Mia Benissimo, vola Te l'ordino Grandissimo Figo, figo Aspetta, quant'è ne so qua le monete rosse? Ce la faremo, ce la faremo? Sì, benissimo Che mi dà? Qualcosa in regalo? Sì, una vita, bene Scendi, no, non puoi scendere, ok? Scusami Ci siamo, ci siamo Pam Ancora un'altra ghianda Che ne faccio poi? No, vabbè, non si può far nulla, bene Salta qua E planiamo Attenzione Che devo fare? Ah, R e Z No, Z e R più che altro Nel frattempo saliamo su, bene Comunque Mi sta piacendo davvero molto, eh Per cui Sarei propenso a continuare Dipende poi tutto da voi, ragazzi No, 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 ne ho persa una Vabbè, non si può avere tutto nella vita Attenzione Attenzione, attenzione C'è la moneta, quella fortissima Bene, bene Ci siamo, eh Mica male, mica male Ok, va bene Perdo un paio Ma ragazzi Può, può capitare a chiunque Ok, le ho perse quelle Però va bene così, dai Comunque Davvero niente male Dovrebbe Fra qualche giorno Spero Arrivarmi anche Quello lì Nel Super Mario 3D World Se non sbaglio Si chiama Oh, cavolo, cavolo Ti pareva Ti pareva, lo sapevo Fa un culo, bastardo Vabbè, non importa Lasciamo perdere Come dicevo, mi arriverà anche quell'altro Quindi, eh Magari Se te vuoi decidere poi Ovviamente Non potevo fare altrimenti Potevo volare Ma Non avevo appunto Il vestito Quindi mi dovrebbe arrivare anche 3D World Se potrebbe piacervi Anche in quel caso Potrei fare qualche gameplay Dipende ovviamente Tutto da voi Vediamo un po' Si è aperta una nuova strada Quindi facciamola Va Aspetta Tunnel Sbilenco Che brutto nome Che ha Comunque Cerchiamo appunto Di non morire All'inizio Come abbiamo fatto prima Ci dà già da ora Ah Fighissimo questo Il fiore Il fiore C'è qualcosa qua Qualche segreto Se torniamo indietro Che ne so C'è qualcosa? No Talvolta in Super Mario Credo lo sappiate meglio di me Ci sono cose particolarissime Tipo bisogna tornare avanti Indietro Ovviamente ragazzi Non C'è Faccio sti gameplay Più che altro Così per divertirmi Non Non cercherò Mille mila segrete All'interno dei livelli Quindi Procederemo Semplicemente Ovviamente Se lo desiderate Procederemo Diciamo Piuttosto Ecco Velocemente Senza Appunto Fare mille Mamma mia Che culo qua Senza crearci Mille mila problemi Fanculo Va Beccati questo Salta bro Ok Grande Mario Benissimo Benissimo Prendi tutto E possiamo procedere Purtroppo qua ci sono Ste piante Mannaggia Attenzione Mamma mia Mi son salvato così Ancora Veloce Su Procedi Che è qua Oh mio dio Che devo fa Attenzione Non scivolare Mario Attenzione Non c'è nulla Però qua Voglio un nuovo potenziamento C'è Eccolo qua Comunque Ho notato Che ce ne sono Abbastanza di potenziamenti C'è già nel primo livello Quelle ghiana lì Ne abbiamo trovate A migliaia Attenzione Avete visto Ne erano migliaia Spero di riuscire a mettere la webcam Perché al momento sto registrando Spero di Mamma mia Che ha combinato qua Mario Mio Benissimo Bene bene Non ti scoraggiare Perché A volte parte così La velocità Che dobbiamo fare qua Corri 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 Mamma mia Benissimo Attenzione Che è qua Tutta sta cosa Che sei venuta a creare Vabbè 2000 punti lì Sono punti Non lo so Ecco Prendiamoci il fiore Che è quel che ci serve Che poi non so Se in realtà Si chiama fiore Ma Credo proprio di no Avrà qualche nome particolare Che al momento Non ricordo E non mi va di ricordare Non importa Aspetta Ce lo lanciamo questo Ah giusto perché Ve l'ho anche distrutto Ma non importa Aspetta Aspetta Ok Che è qua Attenzione Ah qua dobbiamo scivolare Tutte mie Tutte mie sono Aspetta Ma ne sono troppe Mi sembra che ne erano di meno In qualche altro gioco Di Super Mario Forse Ok Ah non ce n'erano altri ragazzi Che ho combinato qua Che stranzato che ho fatto Aspetta Se faccio così Ah si smuove Bene Scendiamo giù Non male Non male Mi sta piacendo molto Infatti Era da tempo Che volevo recuperarlo E finalmente Se l'è fatto appunto Regalare il mio fratello E ho colto l'occasione Appunto per giocarmelo Mi sa che ho perso Una moneta Una di quelle lì Belle Potenti Vabbè ma non importa Tra l'altro Si può giocare Anche qui Non so se notate Ma qua c'è la stessa cosa Che vedete voi a schermo Quindi che ne so Se tipo vogliamo giocare Senza guardare lo schermo Della tv È possibile farlo Muori Questa è una cosa Davvero simpatica Che solo ora Altre console Stanno portando Oh mio dio Che è qua Monete Monete C'è qualcosa qui Mamma mia Quante monete Benissimo C'è nemmeno una vita Abbiamo guadagnato Per fare sta cosa Vabbè non importa Comunque cerchiamo di procedere Credo che il livello Sia ormai concluso Che poi questi giochi Davvero di Super Mario Sono coloratissimi Molto molto simpatici Se io facessi Tipo qualcosa Di particolare per Ce l'abbiamo fatta One up Non ci credo Bisogna premere Tipo questo tasto qui Che si chiama ZR Appunto fa quella sorta Di giravolta Spero voi riusciate A vedermi Che non sia troppo scuro Appunto Che non sia troppo scura La webcam Ok bene C'è stato filmato Non so se ve l'ho mostrato Meno Perché appunto Col problema qui Del copyright Non mi va di rischiare Entriamo qui Nella piana delle ghiande Ci sono sti tre cose Scegli un blocco Per ricevere l'oggetto Al suo interno Non vorrei mica Scegliere Bowser No no Eh ecco Che ne so io Che fine fa Allora Aspetta ci sono Ci sono Quella al centro No aspetta Si è spostato di nuovo Fanculo Ok Bowser è al centro Aspetta eh Quindi prendo il primo Che non so cosa sia Aspetta Stella Mica male Mica male Mettimi qui Metti qui Dammi a me Prendo questo E basta Bene così Al centro c'è Bowser Infatti Che bella vincita Infatti Ulala Wow Ok quindi davvero Non male Non male Ah quindi possiamo Anche conservare Gli oggetti Questa è una cosa Ottima Premi B per vedere I tuoi oggetti Vabbè al momento Non mi importa Quindi voglio procedere Facciamo anche il castello Torre degli ingranaggi Partiamo Va Finalmente Quindi posso provarvi Un gameplay Un po' più lungo Lo so Davvero in tanti Mi chiedete Gameplay più lunghi Però comunque Che ne so Talvolta Esce un video Che ne so Una guida E dura 5 minuti Che posso Mai allungare la guida Sarebbe solamente Più Diciamo Questo cos'è Il ghiaccio Devo fuggire da qua Direbbe solamente Una guida più lunga Che potrebbe Tra l'altro Annoiarvi Quindi Preferisco di Concentrare tutto In un gameplay Più intenso Ma breve Oh yeah Beh basta In frattempo Mario Stava scivolando Che è qua Tutte queste monete Che girano intorno A un singolo cubo Attenzione No le monete Volevo prenderle Vabbè non ci sono riuscito Per cui Cerchiamo di salire da qua Si alza Si Attenzione Ci risiamo Bene Prendile Prendile le monete No no Aspetta Qua c'è qualcosa Credo Aspetta 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 Riesco a prenderlo questo Si o no Ok ci siamo Attenzione No non scivolare Mario Però dai Ok Bene vabbè Quelle prese non importa Le lasciamo anche un po' così Altrimenti si sentono sole No Mamma mia che culo Ci è andata bene Ci è andata bene Attenzione Y Che poi non so se quello sia Y Credo di no Aspettate Lo controllo Si si è Y Quindi Mannaggia Mio Mannaggia Ok Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Bam 200 punti Tutti i miei Ok Attenzione Che ho fatto qua Che sto combinando Moneta No Oh mio dio Aspetta No 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 Non cadere Le prendiamo tutte ragazzi Ci siamo eh Attenzione Preso Preso Le manca una Presa Presa Mamma mia Joseph Edgamer Attenzione Anche in Super Mario Spacca Ovviamente no Però Proprio ci provo eh Ci siamo Mario ci sei ok Siamo quindi a metà del livello A quanto pare Per cui Dobbiamo sbrigarci anche un po' Che è qua Che mi gira la testa Devo recuperarla questa Ci sei Eh ecco Bene 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 Non rimaniamo incastrati lì Perché se no è la fine Un altro fiorellino dorato Che poi non è dorato Volevo dire Del ghiaccio Ma non so perché ho detto dorato Attenzione Vai 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 Mario Carico carico Mamma mia Aspetta non rimane No ti pareva Lo sapevo Lo sapevo Ci riproviamo Attenzione Aspetta Ok ci siamo Ci siamo ci siamo Attenzione qua Concentrati Concentrati Che si sale qui Sì Mamma mia Se le cose le nascondono Sempre nei posti più impensabili Si scende Si scende ragazzi Si scende No no si sale Si sale Al contrario Attenzione qua Ancora sti fiori Ma ce ne ho migliaia Davvero Sono sparsi un po' ovunque Per la mappa Quindi è piuttosto facile Poterli recuperare E avere potenziamenti Sempre attivi Ah finalmente Il boss del castello Quindi sarà una delle solite Tartarughe Dei soliti Koopa Un po' più potenti E amici di Bowser Eccolo qui Davvero bruttissimo Questo Mi sta proprio antipatico Se lanciassi tutte ste monete Oh cavolo Che poi non sono monete Volevo dire che ste palle Mamma mia Colpito Non so manco io come Continua ad attaccare Continua Mamma mia Aspetta Mamma mia Preso due volte Ragazzi Senza farmi colpire Attenzione Per Joseph Gamer Potrebbe esserci Davvero una vittoria Senza farsi del male Mamma mia Attenzione Preso Preso Ce l'abbiamo fatta Ragazzi Abbiamo vinto Suppongo Grandissimo Mario Ce l'abbiamo fatta Bene bene Davvero Niente male Davvero niente male Abbiamo vinto Benissimo Quindi il castello Come vedete Si arrende Perché appunto Mette bandiera bianca Con Miiverse La tua esperienza Vabbè So che su tutte quelle cose Lì se fallisci Va benissimo Sì sì Possiamo condividere i post Vuoi avere la possibilità Tramite Miiverse Sì Non lo so Ragazzi Troppa gente Qua non capisco nulla Quindi ragazzi Il video si conclude qui Noi salviamo anche Giusto appunto Ci troviamo Salviamo Spero che questo video Vi sia piaciuto Si conclude qui Quindi vi ricordo Di lasciare un like Un commento appunto Per farmi sapere Se volete che continui Questa serie Vi ricordo anche Di iscrivervi al canale Nel caso in cui non state già iscritti Quindi ragazzi Qui Giuseppe E super mario Vi salutano E alla prossima Ciao Scusi signorina Vorrei invitarla a casa mia stasera Ha qualcosa da fare stasera Scusi Ciao bro Come va Ehi vuoi venire Magari una festa in maschera Perché no Venite con me E tu Che cavolo è qua Che sparano Che è tutta sta gente Grazie a tutti